In questo momento la Control a casa dei profilattici sta facendo un nuovo profilattico con scritto David De Gea, qua non passa nulla, signori due rigori parati, paratone su paratone questa sera, che la voleva mettere nel mezzo, non voleva tirare, signori Fiorentina 2 Milan 1 De Gea monumentale, questo bisogna dirlo, bisogna dirlo perché De Gea para due rigori, uno a Teo Hernandez e uno ad Abram, vai Moise, vai Moise, è gol, è gol, oh guarda l'orologio è gol, non è gol di Moise? No, la merda che c'ho io al Fanta, la merda che c'ho io al Fanta, come fanno un S goal, scusami, fammi un attimo, come fanno un S goal, la palla è entrata, era dentro, no? Fammi vedere, madonna Moise cosa aveva fatto, mamma mia Moise, è uscito, madonna, mi pensavo che era Rindo, Mamma mia, peccato, peccato, ma, c'è la travesta che sta ancora tremando, e questo Milan, che sembrava essersi ripreso, ha buscurato il Leverkusen, stasera ha buscurato il Milan, Milan, aiù, Milanisti, che è successo, è finita l'energia post derby? Vedendo la situazione penso di sì, vaiù Fon, sai che è scandaloso, eh? Cioè tu mi vai a togliere Raffa Leao, che è l'unico che sta facendo qualcosa lì davanti, lo va a togliere, e non toglie quel morto di Morata e di Ebram lì davanti, vaiù, ma veramente sta facendo? Boh, io non ho parole, non ho parole, comunque, recap della partita, di quella partita, nella partita, perché segna lì, ex Milan, non esulta, ma è gnan che pare rigore a Moise, che Moise forse lo doveva tirare Gudmund, e tutto così, è stata tutta così la partita, vaiù, tutta così è stata la partita, e poi, e poi, sono arrivati questi due rigori per il Milan, prima Tevernans, che lo sbaglia, mini rissa, poi, poi si trova, Adlì che fa un gol della madonna, vaiù, Adlì fa veramente un grandissimo gol, in tutto questo, e poi, e poi nel secondo tempo arriva il secondo calcio di rigore, sempre per via di Moise e Kinn, tutto Moise e Kinn ha fatto, praticamente, calcio di rigore per il Milan, che sbaglia, De Gea, mostruoso, forse è più bello il secondo, il secondo rigore è una paratona mostruosa, è finita, la Fiorentina ha nienta il diavolo, vaiù, mamma mia, 2 a 1, e la Fiorentina si rilancia, si rilancia per un posto in Champions Europa League, vaiù, grande vittoria, grande vittoria della Fiorentina, vaiù, e Milanisti, colto la copertina se l'avete da quest'uomo, e David De Gea, vaiù, che mostrua, vaiù.